Ciao Melissa, sono arrivata a leggere fino alla conquista di Gerico. È interessante vedere come il popolo di Israele è riuscito a conquistare la terra promessa. Sì, molto interessante, però ho sentito che ci sono delle discrepanze tra la Bibbia e l'archeologia. Hai ragione. Proviamo a chiedere a Don Mirko, magari può spiegarcelo. Don Mirko! Ciao! Ciao! Ciao, ciao, ciao! Di cosa stavate parlando? Stavamo parlando della conquista di Gerico, ci chiedevamo delle spiegazioni, ci cercavamo di darci delle spiegazioni su quella perché non sempre combaccia con l'archeologia. Ah, ho capito, avete sentito quello che tante volte viene ripetuto, cioè per tanti episodi raccontati nella Bibbia le prove che attualmente possediamo da parte delle ricerche archeologiche non sempre confermano gli eventi della Bibbia, anzi generalmente vanno su strade diverse. Nel caso di Gerico, oggi vedremo il racconto che ci offre la Bibbia della conquista di questa città e si trova nel capitolo 6 del libro di Giosuè, però teniamo presente anche quello che dicono gli archeologi a partire proprio dal sito di questa antica città. Qual è la questione in fondo? Gli archeologi dicono che nell'epoca presunta in cui Israele sarebbe entrato e avrebbe conquistato la terra promessa, la città di Gerico non c'era più, o meglio, di Gerico esistevano solo delle rovine. La data probabile, secondo il racconto della Bibbia, potrebbe essere una data all'incirca intorno al 1200 a.C. Ebbene, dicono gli archeologi, sembra che nel 1200 a.C., più o meno, di Gerico rimanessero solo le antiche rovine. Era una città desolata e in stato di abbandono. Quindi è impossibile, dicono gli archeologi, che Israele abbia conquistato una città che era già stata distrutta precedentemente e non da loro. Come metterla allora sulla verità della Bibbia? Vedremo sempre di più, trattando i nostri libri storici, che la verità della Bibbia non è una verità di tipo storico, di tipo geografico, di tipo matematico o biologico, eccetera. Perché nella Bibbia ci sono diversi errori, insomma, qualcuno direbbe strafalcioni, su notizie di scienza, di biologia e anche di storia. La verità presente nella Bibbia ha a che fare con la relazione degli uomini tra di loro e degli uomini con Dio. È una verità, dice la Chiesa, che riguarda la salvezza, non la conoscenza. Cioè, voglio dire, la Bibbia non è né un'opera di storia, né un diario storico, nemmeno la Bibbia è un'enciclopedia, dalla quale possiamo trovare notizie sugli egiziani, sugli israeliti, eccetera. È un'opera che nasce dalla fede e che porta alla fede. Questo è importante. Per cui, in questo racconto storico, in questi libri storici che noi stiamo affrontando, alcuni episodi sono evidentemente trasfigurati, per indicare una certa lettura delle vicende che è appunto, come vi dicevo, una lettura teologica della storia. Non è una lettura di tipo militare, di tipo politico, di tipo economico, ma è una lettura teologica. Cioè, nelle vicende della storia si vede sempre lo zampino di Dio, si vede sempre l'intervento di Dio. Vi posso già dire che, in questo brano di Giosuè, capitolo 6, in cui si parla della conquista di Gerico, vedremo come, in realtà, non è una conquista di tipo militare. Se voi guardate, non c'è quasi nessuna azione militare da parte di Israele. È tutta opera di Dio. Per indicare come un popolo così piccolo come Israele, tuttavia, se gode della benedizione di Dio, può fare e compiere delle imprese che mai una persona si aspetterebbe da un gruppo così sgangherato di individui. Comunque leggiamo, allora, volentieri il nostro testo. Israele, in questo ingresso nella terra promessa, si trova a questo punto davanti a Gerico. Rispetto ad altri siti, ad altre località, Gerico è una città sbarrata e sprangata davanti agli israeliti. Quindi, nessuno usciva né entrava. Si vuol dire, quindi, che Gerico è una città fortificata. Non è semplicemente un accampamento, ma c'è un giro di mura, o magari due giri di mura, che difendono questa città. È quindi un caposaldo, è un caposaldo in mano a popolazioni straniere. Israele deve, per poter passare, conquistare Gerico. E quindi è un passaggio obbligato. Certo, se Gerico è così potente come città, è così fortificata, c'è un forte re, c'è un forte esercito. Eppure, dice Dio, io consegno a te, Gerico, questa città. Voi tutti, idonei alla guerra, girerete intorno alla città, percorrendo una volta il perimetro della città. Farete così per sei giorni. Sette sacerdoti porteranno sette trombe di corno d'ariete davanti all'arca. Il settimo giorno, poi, girerete intorno alla città per sette volte, e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando si suonerà il corno d'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo proromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno, e il popolo salirà, ciascuno diritto, davanti a sé. Don, ma come fa Giosuè ad essere sicuro che le mura della città crolleranno? Sì, qui se tu guardi, lo puoi sottolineare al versetto 2, è questo un discorso del Signore a Giosuè, cioè Giosuè riceve questo incarico, questo ordine, e quindi abbiamo la certezza che viene dalla parola di Dio, dalla parola del Signore. E quindi un altro stile tipico del modo di raccontare la storia della Bibbia è che ci sono degli interventi di Dio che danno per sicuro, danno per certo qualcosa che noi diremmo dal punto di vista umano è tutto da vedere. Cioè noi diremmo questo popolo proverà a conquistare la città, potrebbe andar bene come potrebbe non andar bene, non si può scommettere, non si sa. Invece Dio è certo di quello che sarà, perché Dio così ha voluto, è un altro stile tipico del modo di raccontare la storia della Bibbia. Nessuno di noi moderni, scrivendo un'opera di storia, si permetterebbe di chiamare in causa Dio con un suo intervento diretto a questo o quel generale. Vedete che è un modo proprio diverso di scrivere e la Bibbia non è appunto un'opera scientifica, un'opera storica, ma è un libro di fede, che è una dimensione, insomma, diversa, che ha le sue caratteristiche importanti da tenere sempre presenti. Proseguo nella lettura. Dopo questo discorso, quindi, di Dio, Giosuè, figlio di Nun, convocò i sacerdoti e disse loro, praticamente Giosuè, faccio il riassunto, dice dobbiamo eseguire quello che Dio ci ha detto, cioè dobbiamo per 6-7 giorni fare con l'Arca dell'Alleanza dei giri attorno al perimetro delle mura della città. Com'è che bisognerà fare? Dice Giosuè, portate l'Arca dell'Alleanza, 7 sacerdoti portino 7 trombe di corno d'ariete davanti all'Arca del Signore. Notate l'importanza del numero 7. Sette sacerdoti, 7 trombe, praticamente questa sorta di assedio della città dura 7 giorni, non è un caso che nella Bibbia il numero 7 sia così usato, il senso della pienezza, della completezza. Per noi, ad esempio, 7 sono i sacramenti, segno della pienezza. Al popolo disse, mettetevi in marcia e girate intorno alla città e il gruppo armato passi davanti all'Arca del Signore. Come Giosuè ebbe parlato al popolo, i sette sacerdoti, che portavano le sette trombe di corno d'ariete davanti al Signore, si mossero e suonarono le trombe, mentre l'Arca dell'Alleanza del Signore li seguiva. Vado avanti con la lettura e riprendo dal versetto 15. Praticamente il testo ci dice che ogni giorno hanno fatto questo percorso, questa sorta di processione attorno alle mura. Notate che però nessun'arma è stata utilizzata. È strana una guerra nella quale non si combatte. Qui abbiamo qualcosa che ha a che fare con Dio, qualcosa di liturgico, una sorta di processione. Sicuramente non è una battaglia. Al versetto 15 riprende il testo e dice Questo settimo giorno è già un giorno speciale e in più in questo giorno speciale non si fa solo un giro attorno alla città, ma si fanno sette giri. Quindi c'è qualcosa di importante che si giocherà in questo giorno. E infatti alla settima volta i sacerdoti diedero fiato alle trombe e Giosuè disse al popolo Lanciate il grido di guerra perché il Signore vi consegna la città. Questa città con quanto via in essa sarà votata allo sterminio per il Signore. Perché lo sterminio per il Signore? Gerico è condannata ma per quale motivo? Sì, questa è un'altra grande domanda molto importante, molto difficile e complicata. Di fatto Dio non chiede semplicemente la sconfitta di Gerico, cioè di vincere questa città, di dimostrarsi più forti. Dio, stando alla Bibbia, ordina lo sterminio di questa città con tutto quello che c'è in essa, quindi uomini, donne, bambini, animali. Niente deve rimanere in vita. Naturalmente qualsiasi lettore moderno, compresi noi tre, rimaniamo scandalizzati di fronte a questo ordine di Dio. Naturalmente bisogna dire che la Bibbia è parola di Dio in parole umane e in quelle epoche antiche non c'era la nostra sensibilità, prima di tutto. Secondo motivo molto importante, e in realtà l'inizio di tanti altri motivi che cercano di giustificare, di spiegare questa affermazione così dura, è questo fatto. Il popolo, notate, che a Dio come sua divinità sta per entrare in una terra che è abitata da altri popoli che hanno altre divinità. Perché diventi una terra sacra c'è spazio solo per una divinità in quella terra, quindi bisogna eliminare tutti i popoli che venerano altre divinità perché potrebbero corrompere il popolo di Israele. Si tratta in qualche modo di fare pulizia di questa terra, delle altre divinità, quindi degli altri templi di queste divinità e naturalmente delle persone che venerano queste divinità. È chiaro che la frase resta sempre molto dura, però il senso è quello dello sterminio, quello di bonificare la terra nella quale entrerà Israele perché non possa venire distolto da altri culti e da altre divinità. In termini moderni, chiaramente non parliamo più di sterminio, di nessuno, grazie a Dio, potremmo dire che il Signore ci raccomanda nella nostra vita, per vivere una autentica dimensione di fede, sicuramente di eliminare i tanti idoli che abbiamo. Che possono essere la ricerca del potere, la ricerca della fama, la ricerca del successo, magari scavalcando gli altri o dimenticandoci di cose molto più importanti nella vita. Quindi eliminare tutto ciò che rischia di distogliere la nostra vita rispetto a Dio e rispetto al suo Vangelo. Questo penso che sia un discorso che invece possiamo tutti capire e condividere. Vado avanti nella lettura. Insomma, Dio dice di portare allo sterminio questa città per i motivi e questi e altri che vi ho detto e dice Dio rimarrà in vita soltanto la prostituta Rab e chiunque è in casa con lei. Qui, si deve aprire una parentesi, questa prostituta aveva aiutato alcune spie degli ebrei, degli israeliti e quindi rimane in vita come premio per la sua collaborazione. Quanto a voi, guardatevi da ciò che ha votato lo sterminio. Dio si raccomanda, se dovete sterminare, non potete tenere per voi nulla di ciò che ha votato lo sterminio. Altrimenti rendereste votato lo sterminio, viceversa, l'accampamento di Israele e gli arrecchereste una disgrazia. Il popolo lanciò il grido di guerra e suonarono le trombe. Come il popolo udì il suono della tromba e lanciò un grande grido di guerra, le mura della città crollarono su se stesse. Il grande grido di guerra è un metodo per farsi sentire dal Signore perché Lui possa aiutarli, un segnale? Potremmo dire che in questa storia di conquista militare dove di militare non c'è niente, finora almeno non c'è niente, direi che questo grido di guerra è l'unico aspetto nel quale Israele ci mette del suo a livello militare. Però notate come le mura della città crollarono su se stesse non per intervento umano ma per una sorta di miracolo di Dio. Questo è interessante. Quindi di fatto la conquista di Gerico viene esaltata non tanto come conquista militare. Israele non può vantarsi di niente, non ha avuto uno stratagemma per conquistare la città, non ha dimostrato forza militare. Semplicemente si è affidato Israele a Dio e attraverso questa sorta di processioni attorno alle mura e nel giorno stabilito da Dio queste mura sono crollate su se stesse. Allora sì il popolo entra in azione ma quando il più è fatto il popolo continua il testo, salì verso la città ciascuno diritto davanti a sé e si impadronirono della città. Votarono lo sterminio a tutto quanto c'era in essa, uomini e donne, giovani e vecchi, buoi, pecore e asini, tutto passarono a fil di spada. In quella circostanza Giosuè fece giurare, maledetto davanti al Signore, l'uomo che si metterà a ricostruire questa città di Gerico. Cosa potremmo dire insomma in conclusione? Che certo non c'è un problema se l'archeologia ci dice guardate che Gerico non è stata fisicamente conquistata dagli israeliti. Ce lo dice di fatto anche il testo della Bibbia. Qui non abbiamo una vera battaglia, un vero scontro ma in maniera miracolosa il popolo arrivato di fronte a Gerico è riuscito a passare. Hanno dovuto sterminare secondo l'ordine del Signore gli abitanti, questo almeno secondo quello che ci dice il testo della Bibbia, ma molto più facilmente potremmo dire questo, Gerico era già disabitata, Israele è passato anche di lì. Il senso dello sterminio è quello di purificare la terra per evitare l'idolatria. Vedete che un po' alla volta se riusciamo ad entrare nelle categorie giuste, questa storia biblica diventa molto meno indigesta, molto meno fantasiosa e cerchiamo di capire sempre meglio qual è il senso profondo che sta dietro le righe dei nostri brani. Grazie a tutti.